Dove devo guardare? La Fitable si è dimostrato un valido strumento per alleviare il dolore sia nella fase prodromica sia nella fase attiva del travaglio. I movimenti del corpo sulla palla aiutano la naturale discesa del bambino nel canale da parto e favoriscono un maggior controllo del dolore. Nella prima fase del travaglio, se vuoi, puoi provare a stare seduta sulla palla, provando a compiere dei movimenti di rotazione, come a disegnare un otto in modo tale da favorire una maggiore apertura del bacino. Se vuoi, puoi fare dei movimenti saltatori per un massaggio sul perineo, oppure puoi provare a chiudere gli occhi e a concentrarti sul piacere prodotto dai movimenti di tutto il corpo. Infine, nella fase espulsiva, puoi provare ad appoggiarti sulla palla dopo aver assunto la posizione a carponi. Guarda gli altri video per nuovi consigli. Guarda gli altri video per nuovi consigli.